Un 2 giugno sulle note di Oida, Arezzo ha così celebrato la Fessa della Repubblica con un concerto al Teatro Petrarca. Sul palco l'orchestra è stabile di Arezzo, diretta dal maestro Alessio Tiezzi. Un repertorio volutamente appassionato per fare una bella festa, ovviamente molto impegnativo per l'orchestra. Avevamo tanta voglia dopo questo periodo difficile per il mondo della musica e dell'arte in generale e quindi abbiamo messo tutte le energie che avevamo risparmiate, ce le abbiamo messe in questo programma. Il concerto ha celebrato il ritorno all'esibizione in presenza nel Teatro Petrarca. Oida così ha pensato ad una sorpresa per tutto il pubblico. In finale abbiamo pensato a questa marcia trionfale dell'Aida con il coinvolgimento dei musici della Giostra del Saracino che devo ringraziare perché hanno accolto il nostro invito e secondo me è stata un'emozione davvero unica per noi aretini suonare appunto con i musici del Saracino quella che è una delle loro marce più famose che è la marcia dell'Aida. Buongiorno 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 Grazie.